Eccolo Elton John, istrionico, elegante, saluta il suo pubblico e si siede al pianoforte. Lo spettacolo può cominciare. Dagli anni 70 l'ultimo disco in una mantova blindatissima per le misure di sicurezza. Oltre 8.000 persone per un tutto esaurito annunciato. Siamo della Puglia, quindi siamo fan di Elton John. È il mio cantante preferito, in assoluto. Siamo quasi qua i tani con lui. Me lo ricordo molto bene dal mio gioventù. Bellissimo! Camicia fucsia, soprabito nero con ricami colorati, immancabili occhiali con strass. Prima delle ultime canzoni, il pensiero di Ser Elton va al caro amico Gianni Versace, a vent'anni dalla morte. Tra il pubblico degli appassionati provenienti da tutta Italia e dall'estero, l'entusiasmo incontra la commozione. Per il pubblico degli appassionati, il pensiero di Ser Elton John.